Il mio amico è stato un'altra volta che ci sono venuti con la macchina, hanno susseso, hanno amministrato un ragazzo, noi ci sono venuti con la macchina, si sono allontanati e si sono fermati con il piano. Ora poi ci sono targato a Roma Palermo, inizialmente. Siamo arrivati con la macchina, sono arrivati con la macchina, sono arrivati con la macchina. Siamo arrivati con la macchina. Sì, è la polizia. Io la sento malissimo, guardi, il suo figlio c'è avuto un piccolo incidente, adesso lo portano all'ospedale per un controllo, comunque sta bene, sta qui con noi e con l'ambulanza. Siamo arrivati con la macchina. Va bene? Sì, sì, non sei preoccupi, non sei preoccupi, già sappiamo tutto. Senti un po', ci rispondi un attimo? Tu li conosci questi qui? Sì. 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 Sì.